Patrono Minasso alla seconda stagione, alla guida della dirigenza dell'Imperia Calcio e alla prima ha subito colto il successo salendo dall'eccellenza alla Serie D. Come la vede il prossimo campionato? Abbiamo cercato tanto in Serie D, in eccellenza eravamo partiti con intenzioni molto serie, ci mancherebbe, questo non vuol dire che noi le abbiamo anche oggi, però era quando le prime interviste che rilasciai furono delle interviste che non abbiamo mai nascosto la nostra ambizione di salire in Serie D. Chiaro che oggi, dopo tanti anni di eccellenza, la nostra missione è quella di costruire una società che possa rimanere saldamente in Serie D senza grandi patemi, senza grandi salvezze alle ultime giornate, se è possibile, questo ce lo auguriamo e poi si vedrà piano e piano la storia farà il suo corso. Però diciamo che vogliamo costruire una società, ma la società non si costruisce in un giorno, in un anno o in due anni, ma ci vuole del tempo e quindi abbiamo anche molti giovani, molte persone nuove che sono andate nella squadra e da quest'anno ci sarà la Unione Nazionale che avrà una cura particolare da parte della dirigenza e degli allenatori perché vogliamo fare in maniera che Imperia possa anche sfornare i calciatori della zona che siano in grado poi di incidere sulla nostra squadra e chissà io vi auguro per loro anche per il loro futuro a giocare in altre parti.